Sanità Presentata la campagna di Fratres Toscana Donare Sangue e la ricetta della felicità Un'iniziativa per invitare a donare e aumentare la squadra dei volontari Eno Gastronomia, il 4 aprile le eccellenze senese a Vinitali L'evento Siena, Cuneo e Brescia, vino e salumi della tradizione A Verona nel Padiglione di, nello stand di Confagricoltura Premiati i vincitori del premio Tesi di Laura 2022 in ambito neuro-riabilitativo La cerimonia si è svolta nella Sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso Donare Sangue e la ricetta della felicità Non solo uno slogan, ma soprattutto una campagna arrivata in tutte le farmacie della regione Impegnata a consegnare le medicine in sacchetti di carta ricorosamente targati Fratres Toscana Con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di potenziali donatori Tema che sarà anche al centro dei lavori dell'Assemblea regionale di Fratres In programma ad Arezzo il prossimo 26 marzo La Toscana è una terra che non si è mai voltata all'altra parte Ossì i suoi cittadini Credo però sia importante ancora di più in questo momento Mandare un messaggio forte insieme a Fratres Dire che donare sangue vuol dire donare vita E chiedere a ognuno dei cittadini della Toscana che può farlo Di fare la propria parte E' importante ancora di più in questo tempo E credo che le istituzioni debbano avere anche il compito di sensibilizzare Di sensibilizzare in questa direzione C'è bisogno di donazioni C'è bisogno di nuovi donatori Noi sappiamo che la Toscana ha una grande realtà di associazioni Che riescono a tirare, a convincere tante persone A andare a donare Però non siamo ancora sull'autosufficienza di sangue Che sarebbe un obiettivo veramente importante da poter raggiungere Sappiamo che è importante donare il sangue È importante donare il plasma E allora ecco questa iniziativa di Fratres oggi È un'iniziativa fondamentale Perché appunto la Fratres come le altre associazioni Hanno un ruolo di andare a cercare i donatori A parlare con ognuno di noi Con i ragazzi più giovani Anche in vista delle future donazioni Con le famiglie, con le scuole Per far capire anche con piccoli gesti Anche quando si compra il pane Anche quando appunto si va in farmacia Ora a comprare un farmaco Ricordarsi poi che con un piccolo gesto Si può aiutare le persone quando stanno male Il sistema sanitario a funzionare La produzione di farmaci importanti per la salute di tutti noi Quindi veramente è una scelta che ognuno di noi ha E che le associazioni ci ricordano di poter fare E che serve a tutto il sistema sanitario Questa è l'idea che abbiamo voluto mettere in campo per il 2023 Reduci da altre esperienze negli anni scorsi Con altri tipi di promozioni di questo tipo Abbiamo voluto tentare sulle farmacie Cioè in questi luoghi che comunque sono frequentati da numerosissime persone E molte delle quali magari anche sensibili a questo argomento Che è la carenza appunto del sangue Come abbiamo registrato soprattutto nell'anno 2022 E quindi nell'intento di cercare di prevenire Quello che l'anno scorso è stato un brutto momento Per la grossa carenza delle donazioni Ecco che abbiamo messo in campo da qualche giorno a questa parte Questa nuova campagna In senso generale la Toscana ha perso circa 4,5% delle donazioni globalmente la Toscana Noi come Frates siamo riusciti a mantenere la perdita all'1,87% Comunque in termini numerici per noi sono circa 1.200 donazioni Sulle 63.000 che di norma facciamo Quindi è comunque pesante Soprattutto la carenza dell'anno scorso Che era stata una carenza di donazioni Su tutto il territorio nazionale Ha messo in crisi il sistema trasfusionale E quindi comunque il sistema sanitario Perché non era neanche facilmente reperibile il sangue Dalle altre regioni Che normalmente invece in certe situazioni Danno supporto alla Toscana Quindi proprio per cercare di non rivivere i momenti critici dell'anno scorso Siamo cercati di partire con delle campagne Per poter sensibilizzare le persone a diventare donatori Perché quello che manca sono nuovi donatori Perché ovviamente le persone anziane C'è necessità di turnover I giovani sono sempre meno giovani Questo nella popolazione E bisogna in qualche maniera cercare di trovare Fra loro e comunque tra tutti Chi loro che possono farlo Novi donatori Il mondo dell'anogastronomia si ritrova come ogni anno E in occasione della 55esima edizione Due eccellenze agroalimentari sienesi Verranno presentate martedì 4 aprile Durante l'evento Siena, Cuno e Brescia Vino e Salumi della Tradizione Che si svolgerà a Verona nel padiglione di Nello stand di Confagricoltura È un modo con cui noi vogliamo raccontare Quanta qualità c'è nelle nostre terre In particolare nelle terre di Siena Produzione vitivinicola con il Super Tascani Che è un gioiellino ormai riconosciuto in tutto il mondo E poi la cinta senese Fino a pochi anni fa sembrava che quella produzione Tendesse a svanire In realtà grazie a politiche pubbliche Grazie all'impegno, alla passione, alla determinazione Di tanti agricoltori, di tanti allevatori Oggi possiamo dire che è un'altra delle eccellenze Che portiamo in giro per il mondo Vinitaly è un momento importante in cui far conoscere La qualità della nostra produzione La bellezza della nostra terra E con Terre di Siena, con il Super Tascani Con la cinta senese possiamo portare Il nome della Toscana in alto nel mondo Consiglio regionale della Toscana Vicino e al fianco dell'Unione Provinciale Degli Agricoltori di Siena Un'iniziativa che va oltre i confini di Siena Va oltre i confini della Toscana Che mette insieme una sinergia di lavoro Di produzioni tipiche dei territori Insieme a Cuneo e a Brescia Dove Confagricoltura collabora insieme a noi E dove fondamentalmente la Toscana Riesce a superare i confini di se stessa Una partecipazione congiunta Che porta avanti il nome delle produzioni di qualità Coniugare delle produzioni dei territori di varie regioni Metterli in sinergia Crea una relazione Crea soprattutto delle opportunità per le imprese Per chi nel territorio produce Per chi lo vive E soprattutto sulle eccellenze Che dimostrano come le istituzioni Come nel nostro caso Possono essere al fianco dei produttori agricoli E soprattutto promuovere Promuovendo ovviamente i prodotti Il nostro territorio toscano Hanno creato questa importante unione A mio parere La portano ad una vetrina internazionale Non soltanto nazionale Qual è il Vinitali E' un modo per far conoscere le tradizioni senesi Tanta competenza che c'è dietro queste produzioni Produzioni di qualità E ovviamente sui vini c'è poco da dire Sono eccellenze Però possono fare da traino A una produzione di eccellenza Qual è quella della produzione delle carni di cinta Cinta senese che la troviamo nei dipinti Negli affreschi del Lorenzetti del 1300 Poi è stata riscoperta È stata riscoperta alla fine degli anni 90 All'inizio degli anni 2000 E ora queste carni di cinta E questi salumi Hanno tutta una serie di proprietà Nutrizionali da considerare Sono prodotti di eccellenza Quindi io mi auguro Che da questa unione di sapori Quali vini, aromi e carni Nasca una sinergia Che potrà essere A mio modo di vedere Importante per un territorio Per produrre ricchezza In un territorio Qual è quello della senese È sicuramente una partecipazione importante Io la vorrei ridurre in tre termini Che è quello dell'impresa Della tradizione E dell'innovazione Quello che noi Praticamente propagandiamo E che sono i tre termini Che diciamo racchiudono Quello che noi vogliamo Praticamente significare Con le nostre partecipazioni Cioè noi non abbiamo Diciamo da propagandare La nostra zona La nostra regione E la nostra zona particolarmente Però È un'occasione questa Per propagandare Due prodotti Come il Super Tascan E il Cinta Senese Che sono un prodotto Legati sia Alla tradizione E sia all'innovazione Perché è stato un qualcosa Che ha portato avanti Un po' l'impresa Lavoro dei nostri imprenditori agricoli Ci è sembrato Questa fosse la sede opportuna Per lanciare Questa nostra anteprima Il Viniteri per noi È un'occasione Molto molto importante L'occasione per evidenziare L'attività dei nostri imprenditori agricoli Portiamo due testimoni Ad eccezione La Cinta Senese Super Tascan Che testimoniano Cosa può fare L'innovazione E la tradizione Messe insieme Qualità Eccellenza Attenzione I nostri imprenditori Sono molto curiosi Molto attenti Hanno sempre Attenzione Al bello All'estetica E crediamo Che tutti Possano constatare Stamani Parleremo Di questi prodotti Come vi dicevo Queste eccellenze Conosciute in tutto il mondo E quindi più delle parole La descrizione Di questi prodotti Credo che possa essere Assolutamente Soddisfacente Sono cinque gli studenti premiati Dalla Fondazione Gianfranco Salvini Per le tesi di laurea 2022 Con contenuti innovativi Nella neuro-riabilitazione Ad ospitare la cerimonia Di consegna Di riconoscimenti La Sala Gonfalone Di Palazzo del Pegaso A vincere il premio Da 2.000 euro Destinato alla tesi Di specialisti In medicina Fisica E riabilitativa È stata Stefania Spina Dell'Università di Foggia Gli altri 4 riconoscimenti Da 1.000 euro ciascuno Per laurea e triennale Nella classe Delle professioni sanitarie Della riabilitazione Sono andati a Gloria Mataldi Sofia Gandolfi Lorenzo Balducci Elisabetta Valentini Noi sappiamo Che i luoghi Dove la cura funziona meglio E dove la ricerca Si sviluppa E dove si riesce A trasferire Sulla parte clinica L'attività E i risultati Della ricerca Allora La fondazione In questo caso Fa questo Premia Quei ragazzi Che hanno fatto ricerca Quelle persone Che hanno fatto ricerca E che sono riusciti A trasferire Parte di questa ricerca Sulla attività In questo caso Di riabilitazione Quindi una finalità Assolutamente in linea Con quelle Che sono della regione Tutta E in genere Del mantenimento E anzi Dell'elevazione Del sistema Di qualità Del sistema sanitario Toscano Tra l'altro Viene proprio Una settimana Dall'approvazione Della nuova riforma Sugli IRCS Che ci permetterà Di avere E rafforzare In grandi istituzioni Toscane Come Mayer E speriamo Anche la fondazione Monasterio L'attività Di ricerca In maniera Più istituzionale E strutturata È un connubio Direi che Vorremmo festeggiare Tutti i giorni Significa che Abbiamo centrato L'obiettivo Quello di creare Una cultura Dopo di noi Dopo le persone Che in questo momento Si stanno impegnando In questo ambito Davvero importante Della neuroreabilitazione Significa investire Sui giovani Significa Fargli comprendere Che le istituzioni Sono vicine a loro Io ho accolto Con favore La richiesta Dell'ingegner Boncompagni Di essere presente Qua con la fondazione Perché Farlo all'interno Delle istituzioni Significa che Le istituzioni Accompagnano i giovani In un percorso Che non solo È quello di ricerca Ma di investimento Su se stesse E sul nostro futuro La fondazione Gianfranco Salvini Dopo aver promosso Una serie di progetti Estremamente importanti In campo riabilitativo Ha deciso Due anni fa Di dedicarsi Proprio ad incentivare La ricerca Per i giovani Cercando anche Di investire Le risorse Che la fondazione Ha a disposizione Per favorire Proprio la ricerca Per favorire la ricerca E per favorire Quelle che sono Le buone idee Che nell'ambito Che nell'ambito Della neuro-riabilitazione Possono nascere Dagli studi Dalle tesi Fatte dai ragazzi Il centro ricerche Della clinica Di riabilitazione Toscana Appunto Ha da sempre Una collaborazione Con la fondazione Gianfranco Salvini Abbiamo ricevuto Finanzamenti Nell'ambito Della nostra Attività di ricerca Di tipo Traslazionale Quindi Un'attività di ricerca Che cerca Di produrre Dei miglioramenti Nella qualità Dell'assistenza Al paziente Proprio Attraverso La sperimentazione Attraverso Il confronto E anche Attraverso La diffusione Di nuove Strategie Di cura La tesi Che mi ha portato Poi alla vittoria Di questo premio Riguarda L'utilizzo Di una tecnologia A base Di sensori Inerziali Applicata Alla valutazione Del paziente Con ictus Quello che ho fatto È stato appunto Aggiungere Questa tecnologia Alla valutazione Di questi pazienti E ci ha permesso Di avere dei dati In più Per valutare Una di quelle attività Più frequenti Della vita quotidiana Che è appunto Il turning La capacità Di girare Del paziente E questi sensori Ci hanno dato Dei dati in più Per valutare Fattori di rischio Di caduta E altro E ci hanno permesso Appunto Di avere un follow up Del paziente migliore